Ciao a tutti, oggi vi rubo solo pochi momenti per dirvi che è il momento di pensare alle vacanze di Natale e dell'ultimo dell'anno. Dici chiedo ma sei rincoglionito o chi? No, no, è proprio così perché stiamo parlando di un, stiamo preparando un pacchetto compresso di volo, compresso di alloggio, compresso di tutto, per Natale e Capodanno ho di 7 o di 14 giorni, ne parlo ora perché i voli aerei vanno riservati, perché ora costano ancora una cifra giusta e quindi il pacchetto viene fuori con un prezzo che è davvero interessante e man mano che ci si avvicina alla data di partenza chiaramente i voli aumentano, per cui se vuoi passare il Natale e il Capodanno con il culetto al caldo, questo è il verso di farlo, è la maniera di farlo. Vi lascio qui un numero di Whatsapp che è mio, voi iscrivetevi, vi do tutte le informazioni che cercate per passare un fine dell'anno al Caribe davvero e vi aspetto qui. Dai, me lo potete dire che può andare peggio e vi do tutte le informazioni. Ciao!